Andiamo in piscina! Urrà! Pony, ci sei? Arrivo, arrivo ragazze! Ci sono quasi! Andiamo in piscina, che bella giornata! Ragazze, la vedete già la piscina? Sì, siamo arrivati! Eccola! Yeee! Anche noi la vediamo! Wow! Io ho già tolto la cintura, però devo parcheggiare! Allora, attenzione! Allora, io scendo, prendo la mia borsina e ti aspetto, dai! Eh, ma io non ho preso la borsa, ho preso un casino di pop corn! Ma lascia il pop corn in macchina, se non si bagna, dopo non si può mangiare, va bene? Ah, ma è vero! Lo lascia qui in macchina, allora! Ma questa borsa? Oh, è vero! Questa è la mia nuova borsa da forma di diamante! Guarda che bella! Vero? Ti piace? Dimmi che bella! Uh, bella, bellissima! Andiamo in piscina, dai! Oh, Nii! Ci siamo anche noi! Wow! Bellissima questa piscina! C'è anche piscina per i poni! È vero, è piscina per i poni! Che bella sabbia! Wow! Ragazzi, ragazzi, venite qua! È bellissimo! C'è una piscina per voi con palloncini! Sì! Guarda anche questa sabbia, è bellissima! Possiamo scrivere? LOL! Sì! Wow, anche la nostra è bellissima! Bella davvero! Uno, due, tre! Wow! E' stramorbido! Woo! Wow! 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 Ah, ma, senti, prendiamo i gonfiabili! Andiamo dalla poni! Sì, è vero! Bellissima idea! Andiamo! Oh, è un po' difficile uscire qua! Wow! Vieni, vieni, vieni anche tu! Arrivo! Woo! Sì, ho da prendere l'altro gonfiabile! Woo! 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 1-2-3-2-1-2-1-2-1-2-1-8-1-2-1-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-1-2-1-2-1 by1-3-1-2-1- Sun-3-1-1-2-1-2-1-1-2-1-1-2-1-1-1-2-1-1-2-1-1-2-1-1-2-1-2-1-1-2-2-1-1-1-2-1-1-2-1-1-2-1-1-2-1-1-2-2-1-2-2-1-1-2-1-2-1 0-1-1-3-1-1-2-1-1-1-2-1-1-1-1- Ehi, Pony, che facevi? Stavo giocando da sola, ma è una bellissima sorpresa che siete arrivate! Ma dove va l'altra? Oddio, non riesco ad uscire dal gonfiabile! Ma che gli succede? Ti veniamo ad aiutare! Eccomi! Come stai? Io sono in una posizione un po' scomoda, mi aiuti? Aspetta, devo chiamare la Sofie che ti aiutiamo! Sofie! Chi è che mi ha chiamato? Ok, arrivo! Eccomi! Ma è una situazione un po' brutta qui! Sì! Ehi, stai bene? Ti abbiamo aiutato abbastanza, vero? Sì, mi sento molto meglio! Adesso prendiamo il gonfiabile e giochiamo nella nostra piscina? Sei sicura che lo vuoi prendere il gonfiabile? Non è che ti incastri di nuovo? Certo che sono sicura! Vado a prenderlo! Pony, vieni con noi! Va bene, ragazzi! Una, due, tre! Ehi, che bello! Ragazzi, ho sentito che una di voi ha preso il popcorn! Vado a prenderlo! Sai cosa? Secondo me, Pony dovrebbe farsi la treccina! È vero! Le facciamo noi domani la treccina? Per andare a scuola, vero? Così c'è la treccina colorata! E i colori dei suoi capelli sono rosa, viola, gialli! Allora, le facciamo tantissime treccine colorate! Andiamo in piscina della Pony finché non c'è? Alzaci! Sta arrivando Pony! Adesso mangiamo popcorn! Ma dov'è, dov'è? Ecco! Lo porto subito alle ragazze, così lo mangiamo insieme! Che buono questo popcorn! Sì, ragazzi, però è troppo dolce! Non è il mio gusto! A me piace quello salato! Ragazzi, ma questo popcorn è al cioccolato! Oh, oh! Per sbaglio l'ho fatto al cioccolato! A me piace quello salato! Anche a me quello salato è molto, molto più buono! Perché al dolce non ho mai provato il popcorn più buono! Questo mi sembra il buonissimo! Mmm, è veramente buono! Cosa dici? Penso che è ora di uscire dalla piscina che ho tantissima fame! Allora, ragazzi, andiamo a casa mia! Seguitemi in macchina! Mmm... Mmm... Grazie! Grazie.